Salve a tutti e bentornati su Chuck e Azione, io sono Valerio Ferrone ed oggi voglio parlarvi di un film che attendevo da moltissimo tempo, ovvero Guillermo del Toro Spinocchio. Il film dedicato a Pinocchio, diretto da Guillermo del Toro e che potete trovare su Netflix, è sicuramente uno dei migliori riadattamenti di Pinocchio degli ultimi anni. È vero, abbiamo avuto tre Pinocchio negli ultimi anni, ma questo è uno dei migliori, se non il migliore ragazzi, creato grazie ad un'animazione che amo tantissimo, ovvero la Stop Motion o Passo 1, come volete chiamarla. Perché è una delle tecniche cinematografiche che più fa mettere del suo al regista, perché si deve affidare agli attori e lavorare con mano i personaggi e quelli protagonisti poi del film, in quanto viene girato tramite questi pupazzi realizzati a mano e dipinti a mano dagli artisti specializzati del settore. Ricordiamo che la Stop Motion è una delle tecniche usate pochissimo, in quanto serve veramente moltissimo tempo per realizzare un film in Stop Motion. Pensate che la prima apparizione del Conte Volpe che vediamo nel film, per realizzarla, hanno impiegato ben tre mesi, perché c'è la scigna che cammina lungo questo circo e si calda la corda e va a bussare alla porta del Conte Volpe. Un Conte Volpe che è il villain del film e della pellicola, però ci torneremo più avanti perché più avanti farò un po' di spoiler e andremo più specifico nei personaggi che vediamo. Ricordiamo che l'animazione Stop Motion inizialmente era usata per realizzare quelle scene in particolare che non potevano essere ancora realizzate al computer. Mi hanno in mente Terminator 2, fatta proprio grazie agli effetti Stop Motion. Vi ricordo che inizialmente i dinosauri in Jurassic Park dovevano essere realizzati in Stop Motion. Il grande John Tippett era incaricato alla realizzazione di questi effetti speciali, in Stop Motion appunto, ma poi venne esonerato all'incarico rimanendo come supervisore dei movimenti in quanto dei tecnici specializzati della casa di produzione di George Lucas, la Deathlet Magic, che avevano proposto poi a Steven Spielberg di realizzare i dinosauri direttamente col computer. E così fecero, quindi Tippett divenne un esubero, rimanendo come supervisore appunto dei movimenti dei dinosauri per vedere, diciamo, controllare che le cose andassero come dovevano. Guillermo del Toro che in questo film si è veramente superato, ha messo in scena una regia dinamica, veramente incredibile come il regista messicano sia riuscito a dare quei movimenti di macchina che già è difficile di per sé farlo in un film in live action, pensate in un film in stop motion dove le scene sono comunque statiche, devi creare quel movimento che dà ai personaggi la loro velocità, la loro dinamicità. Veramente un grandissimo, grandissimo autore, Guillermo del Toro, che anche in questo caso ha fatto vedere il suo grande, grande valore. Il coraggio del regista lo vediamo anche nell'ambientazione del film, perché a differenza dei classici che abbiamo imparato a conoscere di Pinocchio, questo Pinocchio è ambientato nell'epoca fascista. Sapevamo già dai trailer che ci sarebbe stato Mussolini, un Mussolini caricaturale che si inalbera moltissimo senza motivo. Insomma, fanno capire che non è proprio sveglissimo e lo vediamo più avanti nel film. Veramente grande coraggio, soprattutto per una cosa che ho apprezzato moltissimo, ma ci andremo e ci arriveremo piano piano. Il film è raccontato dal punto di vista del grillo Sebastian J. Cricket e è bellissimo come il rapporto tra il grillo e Pinocchio venga sviluppato nel film, perché sono uniti in un modo molto dolce e molto tenero i due. Un film che si basa moltissimo sull'emarginazione e sulla possibilità di essere se stessi, in quanto appunto ambientato in un'epoca fascista, dove la libertà era cosa per pochi e nessuno aveva la propria libertà di esprimersi appunto. Tra tutti l'unico che non ha vincoli, non si sente legato in alcun modo a niente, è proprio Pinocchio. Un Pinocchio che dal momento in cui si risveglia è veramente un monello, un Pinocchio che crea danni, prende il martello, comincia a battere tutto, spacca le cose. E molti si sono lamentati proprio di questo fatto, perché Pinocchio è più monello degli altri film. Ma ricordiamo che nel libro di Collodi Pinocchio è molto peggio di così, è veramente veramente un discolo, un bambino che non dà retta per niente a Geppetto e fa ciò che vuole. La rivisitazione di Guillermo del Toro non si ferma appunto all'ambientazione, ma toglie alcuni personaggi tipici delle storie che abbiamo imparato a conoscere di Pinocchio, ovvero il gatto e la volpe, come detto, non c'è Mangiafuoco, ma c'è il conte-volpe, un murattinaio completamente il contrario di Mangiafuoco, che è secco e allampanato, mentre, come sappiamo, il Mangiafuoco classico è un omone grande con la barba. La rielaborazione di Del Toro non si ferma all'ambientazione o ai personaggi. Abbiamo qui delle vere motivazioni, per cui Geppetto intaglia Pinocchio dal pino. Ma di questo e di molte altre cose andremo a parlare nella parte spoiler, perché è difficile cercare di non fare spoiler di questo film, per cercare di entrare in pieno nella mentalità di Del Toro, di capire le dinamiche della pellicola, perché io ho amato questo film e vi consiglio di vedere se non l'avete visto. Ma proseguiamo. Non è un film perfetto, ma forse è l'unico dettaglio che ho inquadrato, che non mi è piaciuto moltissimo, è l'arco narrativo di Lucignolo, un Lucignolo che è sim, discolo, come abbiamo imparato sempre a conoscerlo, ma che non ha una vera e propria chiusura nella storia finale. Lo vediamo, poi, o c'è tutto, non lo vediamo più, ma questo forse è l'unico dettaglio negativo della pellicola di Del Toro, che, diciamo, può passare tranquillamente sopra, perché è emozionante, è appassionante, ed è molto bello capire il significato che Del Toro ha voluto dare a questo Pinocchio. Un Del Toro che lo vediamo anche nei personaggi che ci sono, dalla Fatina a tutti i personaggi che poi circondano le vicende legate a Pinocchio. Hanno molto della poetica di Del Toro, molto delle caratteristiche del labirinto del fauno, ma anche di Hellboy, molte creature che vediamo nel film sono riprese anche in alcuni dettagli, appunto, da alcune creature viste nei film proprio di Guillermo Del Toro. Quindi, un Del Toro che ha voluto regalarci questi piccoli accenni alla sua filmografia. Veramente, veramente inaspettato e ineccepibile Del Toro, come sempre. Una menzione speciale va fatta al cast vocale, in originale, in quanto abbiamo Kate Blanchett come spazzatura, la scimmietta del Conte Volpe, abbiamo Tilda Swinton che interpreta gli spiriti, quindi la vita e la morte, non c'è la fata madrina perché altrimenti non era Del Toro, mettiamo la vita, lo spirito della vita e lo spirito della morte. In più abbiamo Dave Bradley che è il nostro Gaza di Harry Potter che fa Geppetto e Ewan McGregor che interpreta il Grillo. Veramente tutti, tutti bravissimi e un incredibile, incredibile lavoro generale. Un'interessante nota da mettere proprio con il cast vocale perché Kate Blanchett, dopo l'ultimo film Nightmare Alley, nel quale ha lavorato con Del Toro, ha voluto chiedere al regista messicano di farle fare una parte in Pinocchio. Purtroppo Del Toro ha detto guarda mi è rimasta solo la scimmia da fare e lei mi ha detto ok, lei ha accettato di fare la scimmia perché si trova benissimo a lavorare con Del Toro. Veramente una grande professionista ed è evidente che si sono divertiti tutti a girare questo film. Un film che gira moltissimo sull'elaborazione del lutto, sulla perdita e su come affrontare i propri decessi in famiglia, dei propri cari ed è veramente un argomento importante. Non molti, non molte pellicole affrontano l'argomento della morte in questo modo. Un Pinocchio che si prende sì sul serio ma lo fa con il giusto grado di serietà. Una pellicola che è per tutti e molti bambini potrebbero spaventarsi magari a vedere le creature mostrate nella pellicola ma un messaggio che raggiunge tutti, grandi e piccoli, veramente profondissimo ed emozionante. Io ho amato questo film, lo ripeto, e continuerò a ripeterlo. Un Pinocchio che è accompagnato da una colonna sonora veramente da urlo con Alexander Desplat che ci ha messo del cuore e molto del suo, sappiamo Desplat quale grande autore sia e le canzoni adesso, ancora ad oggi, a distanza di un mese dalla visione del film, mi risuono nella testa, veramente perfetto in tutto. Un Pinocchio che si può definire, questa versione, una fiabba gotica in quanto tutti i personaggi realizzati hanno un po' di gotico, un po' di dark, un po' di oscuro. Tutte le creature che vediamo sono unite da una cosa in particolare, il colore. Vediamo la fata madrina, che è quel colore violaceo, azzurrino. Vediamo appunto lo spirito della morte, che è nello stesso colore. Ed altri personaggi che... lo stesso Grillo, che è un personaggio di fantasia che hanno una connessione con Pinocchio, hanno quel colore un po' bluastro, violaceo che li connette in qualche modo ad un mondo ultraterreno. Una connessione creata appositamente da Del Toro per i più attenti. Ecco, un finale straordinario che ci racconta di come appunto la perdita sia una cosa importante anche nella vita e l'accettare. La perdita di una persona cara è la cosa più difficile e importante appunto che ci può essere. Io per il momento vi ringrazio, se volete io farò, inizio a fare alcuni spoiler del film perché ne vale la pena. E se non avete visto il film, fermatevi qui perché vi rovinerete veramente una gran bella pellicola. Altrimenti se volete sapere cosa ne pensiamo noi di ciaccazione del film, più specificatamente, seguiteci tra poco perché farò un po' di spoiler. Io vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Grazie a tutti. Eccoci qui pronti per andare più nello specifico di questo Pinocchio e parlare un po' di cosa mi ha veramente fatto balzare dalla poltrona e dal divano perché quando ho capito come aveva rappresentato l'isola dei Balocchi io ho strabuzzato gli occhi perché veramente in quel modo non l'avrei mai pensato. Allora l'isola dei Balocchi è praticamente il centro di addestramento dei soldati fascisti. Un posto che nella classica storia che conosciamo trasformava i bambini in asinelli per le miniere di sale. I asinelli che rimanevano e assecondavano gli ordini delle guardie e qui invece trasforma i bambini in soldati o imbedienti pronti per imbracciare un fucile per l'esercito fascista. Boom. Quando ho visto ho capito che l'intenzione di Del Toro era quella sono rimasto senza parole. Veramente. Non pensavo che avrebbe realizzato in questo modo l'isola dei Balocchi. Comunque andando avanti altra scena emozionante è l'inizio del film. Capiamo perché Geppetto intaglia Pinocchio nell'albero. Nel pino. Iniziamo con la pellicola e vediamo Carlo, il figlio di Geppetto. Come dite, Carlo? Chi è Carlo, il figlio di Geppetto? Geppetto qui ha un figlio che durante la guerra rimane ucciso sotto dei bombardamenti dentro una chiesa dove il falegname stava intagliando un Cristo, un Cristo in croce, quindi in legno. Il figlio di Geppetto rimane ucciso dentro la chiesa mentre loro stavano intagliando un Cristo in legno. Geppetto esce dalla chiesa, escono di corsa dalla chiesa perché sentono arrivare gli aerei per i bombardamenti, ma precedentemente Carlo aveva trovato questa pigna perfetta e l'aveva dimenticata in chiesa. Quando ritorna indietro per prendere la pigna le bombe cadono sulla chiesa uccidendo il bambino. Geppetto disperato dal dolore non sa più come riuscire a superarlo. Quindi quando sotterra Carlo, sotterra a fianco alla tomba di Carlo anche la pigna. Capiamo che passano degli anni e la pigna cresce diventando un pino. Durante gli anni Geppetto diventa, come lo conosciamo classicamente nella favola, quindi ubriacone, un povero falegname che si dà all'alcol e piange sulla tomba del figlio Carlo perduto. Durante una di queste nottate piene di dolore e alcol decide di abbattere poi quel pino che è cresciuto dalla pigna raccolta da Carlo, dentro il quale si era trasferito il grillo. Il grillo che si era trasferito dentro un buco nel pino. Mentre abbatte l'albero appunto, raccoglie un ciocco e intaglia Pinocchio in preda ai fumi dell'alcol completamente ubriaco. Sviene appunto poi a terra ubriaco. Rimane così un Pinocchio, infatti il Pinocchio manca un orecchio, è molto particolare, non è quel Pinocchio perfetto, è un po' gotico appunto, un po' dark, ha un aspetto non bellissimo come il classico burattino che conoscevamo. Pino diventa appunto la casa di Sebastian J. Cricket che si stabilisce in un buco all'interno di Pinocchio che è all'altezza del cuore. C'è questa scena un po' più avanti nel film dove Pinocchio va a dormire e nella notte si vede soltanto la lucina all'interno di Pinocchio che è la casa del grillo che è diventato la sua coscienza e capiamo che insomma Pinocchio e il grillo hanno una connessione molto più profonda di quella che conoscevamo ancora prima. Inoltre c'è una bella staffilata direi alla chiesa perché quando piano piano Pinocchio prende confidenza con il babbo, con Geppetto, vanno alla chiesa e iniziano a lavorare al Cristo ancora in lavorazione al Cristo il legno e capiamo che insomma Pinocchio prima veniva deriso veniva allontanato perché era un burattino e nessuno lo vedeva perché era un burattino di legno e tutti lo guardavano con mal occhio e quando arriva in chiesa Pinocchio fa questa osservazione guardando il Cristo il legno. Dice papà ma perché tutti amano lui che sono di legno e non amano me? Alla fine siamo tutte e due di legno. Perché? Vi lascio alle riflessioni generali di questa staffilata buttata lì e non più ripresa da parte di Guillermo del Toro ma veramente veramente clamorosa. Pinocchio qui muore, può morire. Quindi quando muore va nell'aldilà e viene trasportato da questi conigli infernali dell'aldilà verso morte che è la sorella della vita, la stessa fata che ha dato appunto la possibilità di vivere al burattino. Quindi la morte dice rimani qui mentre attendiamo il tuo tempo insieme. Quindi loro parlano. Quando capiscono che Pinocchio non può morire logicamente il padre di Lucignolo che è questo grande ufficiale dell'esercito fascista decide di farlo al rurale appunto per poi mandarlo in questo campo di addestramento per giovani militari. E qui capiamo come lo sfruttamento appunto da parte dell'esercito fascista continui. Prima tutti deridevano Pinocchio adesso è diventato importantissimo in quanto immortale e potrebbe diventare così il soldato perfetto. Andiamo col finale a capire bene cosa voleva dirci Guillermo del Toro. Quando Pinocchio prende vita il grillo dice, la fatina chiede al grillo che lui può avere, potrà avere un desiderio se riuscirà a farlo diventare un bravo bambino. Tutti imparano la lezione in quanto poi Pinocchio fa capire sia a Geppetto che lui non è Carlo in quanto Geppetto vorrebbe un nuovo Carlo. Dice io non sono Carlo, sono Pinocchio. Quindi Geppetto impara la sua lezione di dare più possibilità a Pinocchio. Così la impara il grillo la propria lezione e quando alla fine Pinocchio muore per la terza volta e la fata della morte dice se torni in vita non potrai più tornare, cioè tornerai a diventare mortale. Quindi lui capisce che però è l'unico modo per salvare il Geppetto perché sta uno sotto attacco del mostro in questo caso, non è una balena, è questo mostro veramente realizzato benissimo in stop motion. Allora Pinocchio dice ok, anche se posso morire, vado a salvare mio padre. Non è un problema, voglio diventare un bambino vero, quindi se morirò la prossima volta morirò per sempre. Decide di fare questo, salva Geppetto, il grillo e la scimmia, però muore. Quando tutti sono disperati arriva la fata, madrina e vita. Chiede quindi poi al grillo se aveva deciso il suo desiderio in quanto aveva capito che l'importante non era se stesso, diventare un grande scrittore come pensava lui, ma l'importante era salvare Pinocchio, quindi decide di far tornare in vita Pinocchio sprecando tra virgolette il suo desiderio. Pinocchio torna in vita, ma non è un bambino vero. Pinocchio torna in vita come burattino che non può morire. E anche qui, incredibile, ma veramente veramente profondo. Allora, vediamo come il finale ci fa vedere cosa riserva al futuro a Pinocchio, Geppetto, spazzatura e il grillo. E la voce del grillo continua sottofondo dicendo Un giorno vissero felici e contenti tutti quanti, fino a quando un giorno Geppetto si ammalò e Pinocchio dovette salutarlo. E morì di vecchiaia, come il normale. Continua il grillo, mentre vediamo Pinocchio che seppellisce Geppetto. Un giorno Pinocchio trova me, senza vita a fianco alla finestra. E quindi vediamo come vanno su questa collina dove è stato poi sepolto anche Carlo e c'è la tomba di Geppetto e vanno a seppellire anche Sebastian J. Cricket. Mentre si avvicinano alle tombe, vediamo che il tempo trascorre e vediamo che spazzatura scompare e vediamo comparire la tomba di spazzatura. E continua la voce del grillo dicendo Non so se Pinocchio diventato mai un bambino vero, ma sono sicuro che ha girato il mondo come voleva lui e molto probabilmente sarà morto facendo ciò che gli piaceva. Io adesso piango perché veramente ragazzi è un film clamoroso e questo finale è bestiale. Guillermo del Toro, non lo so se non gli danno l'Oscar, Golden Globe, tutti i premi possibili di animazione. Io veramente vado a Los Angeles e faccio un macello. Ma volevo lasciarvi con un finale, con una considerazione per chiudere questo video. Un finale che vuole dirci che tutti dobbiamo morire prima o poi e tutto finisce. Dobbiamo imparare a convivere con la perdita delle persone care. La morte e la vita sono, come abbiamo capito nel film, complementari. Sono sorelle e senza la morte non ci può essere la vita e senza la vita non ci può essere la morte. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. È stato veramente un viaggio bellissimo e rivedrei Pinocchio altre mille volte, l'ho visto già due volte ma lo rivedrei altre cento perché ho amato il film come niente e nessuno al mondo. Io vi ringrazio se avete apprezzato il video e mettete un mi piace e condividete il video con gli amici. Seguiteci sui nostri social e trovate nel film, in descrizione, tutti i link per seguirci su Facebook e Instagram. Io vi rimando alla nostra diretta del 10 di gennaio per seguire Golden Globe con Live Notturna. Un abbraccio da Valerio Perrone e da Ciacchiazioni. Ciao a tutti.